per ritrovati di nuovo su review in view oggi vado a recensire insieme a voi un prodotto tutto al femminile si tratta di una mini cassettiera ideale per mettere trucchi smalti creme gioielli e quant'altro regalo magari anche da fare la vostra ragazza mamma e perché no un'idea davvero carina che potete anche concedervi visto il prezzo davvero ragionevole l'ho comprata su amazon vi lascio il link qui sotto in descrizione ed è utile sicuramente per metterle in camera da netto in bagno magari per chi ha un negozio di unghie smalti eccetera vi faccio vedere i vari scomparti potete mettere gli smalti i pennelli e qua ci sono questi cassettini con dentro questo strato di stoffa venutata nera è davvero ben fatto guardate anche lo spessore della plastica trasparente come vedete quindi si può vedere anche il contenuto all'interno dietro è tutto liscio come particolarità si può anche staccare la parte sopra poi va ad incastro potete usarlo un po come volete e come dimensioni ve le dico al volo abbiamo 10 centimetri di altezza 24 la lunghezza 13 questo lato poi invece cassetti misurano 13 centimetri per 22,2 centimetri sono andando a leggere dalla pagina di amazon e poi vabbè questa parte qua abbiamo 8 centimetri di altezza e 21,5 di lunghezza e poi questo spessore 3,2 se volete tutte le informazioni le trovate sempre qui nel link che vi lascio in descrizione se avete domande non esitate a pormole vi lascio alla prossima review